In questo episodio vedremo insieme un confronto dettagliato fra i due controller hardware per DaVinci Resolve di Blackmagic Design, la Editor Keyboard e la Speed Editor. Entrambi i prodotti sono progettati per migliorare la produttività durante l'editing video, ma offrono caratteristiche e funzioni distinte, indirizzandosi a diverse esigenze dei montatori. Ciao e bentornati sul canale. Vediamo cosa sono e a che cosa servono questi due dispositivi di casa Blackmagic, pensati per ottimizzare il lavoro di editing col celebre e diffusissimo software DaVinci Resolve. Non è possibile usare queste periferiche con altri programmi di montaggio. Non sarà un video tutorial sull'utilizzo di ogni singolo tasto funzione, perché il video durerebbe tre ore. Sarà piuttosto una panoramica e un confronto fra i due e soprattutto risponderà, mi auguro, alla domanda che molti si fanno. Ha senso acquistarlo per il mio lavoro di editing? E quale fra i due? Lavoro da tempo con la Editor Keyboard e da diversi mesi ho acquistato anche la Speed Editor. Con entrambe è inclusa una licenza per DaVinci Resolve Studio, ovvero la versione a pagamento di DaVinci Resolve, che offre alcune funzionalità in più rispetto alla versione gratuita. Se dovete lavorare in modo professionale e per progetti di un certo livello, la versione studio è d'obbligo. Ovviamente, essendo sviluppati e prodotti dalla stessa casa che distribuisce il software di editing, l'integrazione fra hardware e software è perfetta. Abbiamo una risposta reattiva e precisa di ogni comando impartito. Queste tastiere hanno dei comandi fisici che risultano essere utilissimi per velocizzare il processo di montaggio. Usare il mouse o combinazione di tasti non è la scelta migliore in certi contesti. Ovviamente dipende dal lavoro che ognuno deve fare. Vediamo le caratteristiche di ognuna analizzandone i pro e i contro. Entrambe hanno delle sezioni comuni. Il lato sinistro è pressoché identico. In alto troviamo la parte di Intelligent Keyboard Edit Mode, con i vari Append, Smart Insert, Place on Top, che definiscono la modalità di inserimento della selezione della clip in Timeline. I tasti di In e Out per assegnare l'ingresso e l'uscita delle clip. La parte di Search Dial Live Trimming Tools per eseguire il trimming, cioè il taglio, nelle varie modalità. In basso abbiamo i Transition Keys, che regolano il Cut, la dissolvenza e lo Smooth Cut. Anche la parte destra, chiamata Search Dial e Navigation Keys, è identica con i due utilissimi tasti di Source e Timeline, che permettono di passare senza usare il mouse rapidamente dalla Timeline alla cartella di origine dei file, in Media Pool per selezionarli, visualizzarli, ecc. Nella Edit Page questo tasto porta nel Source Viewer. Sotto abbiamo i tre tasti bianchi che selezionano il tipo di scorrimento della Wheel, ovvero della rotella. Ovvero, partendo da sinistra, abbiamo Shuttle, Jog e Scroll. Un LED sulla tastiera si illuminerà per mostrarci quale modalità è selezionata. Colori a parte, una delle prime cose che salta all'occhio per chi si affaccia al mondo del montaggio guardando questi device è la Wheel. Usare una Jog Wheel è completamente diverso da qualsiasi altro metodo di navigazione nella Timeline. Per decenni una Jog Wheel reattiva e robusta è stata un pilastro dell'editing professionale. Oltre alle tastiere di editing, pensiamo anche ai lettori professionali Sony di cassette Beta, Cam o IMX, per esempio, che affollavano fino a poco tempo fa le salette di montaggio di qualsiasi broadcaster. Queste Wheel sono fondamentali, come lo sono le Wheel di regolazione sui panel dei Colorist. I loro punti di forza sono velocità e precisione. La rotella Shuttle, Jog, Scroll, a seconda delle modalità e della velocità con cui viene fatta girare in una determinata direzione, ci permette di spostarci facilmente, fotogramma per fotogramma, oppure scorrere rapidamente una scena. È molto più veloce e comodo che ingrandire e rimpicciolire o provare a scorrere con un mouse e una tastiera. La parte superiore liscia presenta una rientranza di buone dimensioni per posizionare il dito, per un controllo preciso e il contorno laterale è ricoperto da una gomma morbida con un ottimo grip. Ciò rende possibile tenere e usare la Wheel in molti modi diversi, con un dito o più dita, a seconda del tipo di navigazione che dobbiamo eseguire. Puoi per esempio scorrere una lunga clip in modalità Shuttle o Scroll. Quando vedi quello che stavi cercando, immediatamente premi il tasto Jog e la testina di riproduzione, la Playhead, si ferma immediatamente. Quindi utilizzando la Jog Wheel, quando arrivi alla ripresa o alla scena desiderata, puoi impostare con precisione, lentamente, accuratamente, la Playhead sul fotogramma esatto che desideri. Vediamo nel dettaglio le tre modalità di scorrimento della Wheel utilizzando i tre pulsanti dedicate. Shuttle. Mette la manopola di ricerca in modalità Shuttle, utilizzata per navigare rapidamente tra clip lunghe o bin di sincronizzazione. Rotando la manopola a sinistra, si riavvolge la clip o la timeline. Ruotandola a destra, si avanza rapidamente. Maggiore è la rotazione dal centro, più veloce è la Shuttle. È quella forse più ostica da utilizzare perché il controllo non è facile all'inizio e devo ammettere che anche io la uso meno rispetto alle altre due. Jog. Mette la manopola di ricerca in modalità Jog, utilizzata per navigare tra frame specifici con accuratezza e precisione. Tradizionalmente si posiziona il dito sulla fossetta della manopola di ricerca e la si ruota verso sinistra per andare indietro frame per frame e verso destra per andare avanti frame per frame. Più velocemente si ruota la manopola di ricerca, più veloce è la navigazione. È quella che uso il 90% delle volte. Scroll. Mette la manopola di ricerca in modalità scroll. La modalità scroll è essenzialmente una modalità Jog più potente. Ruotando la rotella verso sinistra si inverte la direzione di riproduzione, mentre ruotandola verso destra si procede in avanti. Lo scorrimento funziona in termini di secondi anziché di fotogrammi. La velocità con cui si ruota la rotella di ricerca determina la rapidità con cui la testina di riproduzione, la playhead, si muove nel filmato. Mi è utile per andare magari in un punto preciso della timeline a gran velocità. Dopodiché seleziono Jog e mi muovo frame by frame. Utilissima è la wheel quando dobbiamo ritagliare una clip in testa in coda. Se usiamo il trim edit mode, tenendo premuto trim in e girando la manopola, andiamo a ritagliare la parte iniziale della clip in modo preciso, senza lasciare gap. Se lo facciamo in selection mode il taglio tra due clip contigue lascia un gap. Utilizzato principalmente per la navigazione nel viewer o all'interno della timeline, a seconda della modalità selezionata posso variare anche le funzioni di altri tasti presenti sul controller. In alcune circostanze questo quadrante può essere utilizzato anche per la selezione dei parametri e la manipolazione diretta delle clip, offrendo un'alternativa, come già abbiamo detto, all'input tramite clic e trascinamento del mouse. Se ad esempio con Jog selezionato faccio doppio clic e tengo premuto il tasto snap sulla speed editor, con la wheel posso ingrandire e rimpicciolire la dimensione delle finestre all'interno della pagina di DaVinci, cambiando così la disposizione dell'area di lavoro. Tutto è studiato per garantire velocità. Un tasto può suolgere più funzioni. Ad esempio, sempre nella speed editor, il tasto marker, così come tutti i tasti secondari, sono attivabili premendo due volte in successione lo stesso tasto. Per esempio, se vogliamo inserire un marker in timeline, dovremmo premere due volte il tasto audio level. Ci sono varie funzioni attivabili, per esempio con il marker citato, se noi premiamo il tasto e giriamo la wheel, avremo la possibilità di scegliere il colore del marker. Se premiamo il tasto tre volte in successione, si aprirà la finestra di edit marker. Ci sono davvero tante modalità di navigazione tra le funzioni accessibili. Una funzione molto utile è quella di controllo della durata di una transizione, che può essere fatta in modo molto preciso. Seleziono la transizione tra due clip, tengo premuto il tasto trans-dur, ovvero durata transizione, e con la wheel regolo di fino la durata. Oppure, se ci posizioniamo su un titolo e dopo averlo premuto due volte teniamo premuto il tasto trans nella speed editor, che ha come funzione secondaria title, ebbene, girando la wheel possiamo scorrere fra i diversi stili del titolo. Se tengo premuto il tasto audio level con la wheel posso regolare il volume della clip. Abbiamo analizzato le parti comuni. La parte centrale è diversa. A parte in basso dove troviamo la barra spaziatrice, che regola l'avvio e lo stop della riproduzione, nella speed editor abbiamo in alto i function keys, i tasti funzione, il numero ovviamente ridotto rispetto alla keyboard, e sotto la sync bin multicamera selection, per la gestione del multicamera, mentre nella editor keyboard abbiamo la parte dedicata alla gestione del time code. Riassumiamo le caratteristiche di ognuna. La Blackmagic Design Editor Keyboard è una tastiera avanzata, progettata per migliorare l'efficienza negli ambienti di editing professionale. Con tasti meccanici e una rotella di scorrimento robusto, questo strumento è ideale per un editing intensivo e continuo. La colorazione delle sezioni della tastiera è familiare per chi lavora in ambito pro come con Avid. Questa tastiera consente la praticità e la potenza dell'editing non lineare, con la natura tattile dei controller di editing basati su nastro utilizzati in passato. Mio padre era un montatore, ho potuto vedere e provare l'editing prima dell'avvento dei computer, montando supporti come Betacam D2 e IMX, supporti basati su nastro magnetico. La tastiera DaVinci Resolve Editor è stata progettata per accelerare notevolmente la navigazione nella timeline nella pagina di edit, riducendo al minimo l'uso del mouse. La differenza principale tra l'utilizzo della tastiera in DaVinci Resolve nella pagina di edit rispetto alla pagina di cut è che nella pagina di edit il punto di modifica viene selezionato manualmente o impostato nella posizione della playhead, non impostato automaticamente nel punto di modifica più vicino mostrato dall'indicatore smart come avviene invece nella pagina di cut. Si delinea già una differenza tra i due strumenti, ottimizzato l'uno, la speed editor, per la cut page e la editor keyboard per la edit page, ma avendo la maggior parte dei comandi della speed editor anche conseguentemente nella cut page. Caratteristiche principali Rotella di scorrimento in metallo, robusta e precisa, consente di controllare il playback e lo scrubbing del video in modo accurato. Ha tre modalità di scorrimento della playhead sulla timeline. Tasti meccanici, progettati per durare nel tempo, offrono una sensazione tattile di alta qualità. Ovviamente sono molto più numerosi rispetto ad una tastiera non meccanica. Tasti dedicati per l'editing. Include tasti per funzioni avanzate di taglio, inserimento, sovrascrittura, split e trim, riducendo la necessità di comandi da tastiera, dove spesso devi utilizzare combinazioni di tasti o mouse. Costruzione solida, con un design robusto e adatta a essere utilizzata in ambienti di lavoro intensivo. Connessione USB-C. Si collega direttamente al computer tramite cavo, garantendo una connessione stabile e senza lag. I pro e i contro. I pro. Ottimizzazione per il flusso di lavoro professionale, la disposizione dei tasti dedicata e la robustezza rendono questa tastiera perfetta per l'editing avanzato e intensivo. Rotella di scorrimento di alta qualità, consente un controllo preciso e reattivo del playback. Sul retro della tastiera troviamo due ingressi USB 3 di tipo A, ai quali possiamo collegare altre periferiche. Sulla parte vicina a noi troviamo un comodo poggiapolsi gommato, studiato per ridurre l'affaticamento durante lunghe sessioni di lavoro. Questo non è rimovibile. Il bordo che corre intorno alla tastiera è utile nel caso si montasse la tastiera ad incasso su una scrivania. Contro. Prezzo elevato. È una soluzione costosa, accessibile principalmente per editor professionisti o studi di produzione. Dimensioni. Essendo grande e pesante richiede una postazione di lavoro ampia e non è facilmente trasportabile. Non wireless. La connessione via cavo limita la libertà di movimento e l'adattabilità in ambienti con molte periferiche. È una tastiera QWERTY americana per cui il layout è diverso per molti tasti. Nella tastiera americana non troviamo ad esempio le lettere accentate, così frequenti nella nostra lingua. E per farle dobbiamo usare delle combinazioni di tasti. Questo non riguarda l'editing puro, ma se, come capita a me, facciamo anche titolazioni e dobbiamo aggiungere grafi e titoli nei nostri montaggi, questo rallenta il lavoro. Aggiungiamo due tastiere al sistema e switchiamo da una all'altra in caso di necessità. Io, per esempio, lavorando con me, ho due tastiere Apple. Quella lunga con i tasti numerici e quella corta, chiuso quando devo inserire parecchi titoli e lavoro in DaVinci Resolve con la Editor Keyboard. Dobbiamo fare lo switch, ovviamente, perché altrimenti il sistema non rimappa i tassi e anche se premiamo la lettera accentata sulla tastiera italiana, se non è selezionata la tastiera italiana nelle impostazioni, avremo riprodotto un altro simbolo. La Blackmagic Design Speed Editor è un controller compatto e portatile, progettato specificatamente per la cat page di DaVinci Resolve, con una rotella di scorrimento e tasti essenziali e una scelta ideale per chi cerca efficienza e portabilità. Caratteristiche principali. Rotella di scorrimento integrata, simile all'editor keyboard, permette di spostarsi velocemente lungo la timeline in tre modalità. Ha un feeling leggermente diverso rispetto a quella dell'editor keyboard. Tassi di funzione dedicati, disposti per accedere rapidamente a funzioni come Cut, Ripple Delete e Close Up, ottimizzando il flusso di lavoro. Connessione Bluetooth o USB di tipo C. Può funzionare wireless o cablato, garantendo maggiore flessibilità. Un plus sicuramente rispetto alla editor keyboard, anche perché i cavi di connessione sono di qualità, ma sono belli spessi e ingombranti. Compatto e leggero. È facile da trasportare e adatto a editor che lavorano in diversi ambienti o in spazi ridotti. I pro e contro. I pro. Portabilità. Grazie al design compatto e al supporto Bluetooth è ideale per editor in movimento o per chi lavora su più postazioni. Facilità d'uso. Pensato per la Cut Page, offre un'esperienza user-friendly anche a chi non è esperto di DaVinci Resolve. Prezzo competitivo. Più economico rispetto all'editor keyboard. È una soluzione abbordabile per editor occasionali o semi-professionisti. Ha meno tasti funzione, ma a qualcuno che manca all'editor keyboard. Lo split ad esempio, per aggiungere un edit point. Lo reputo molto utile. La durata della batteria è buona. Per verificare il livello di carica basta andare in Preferenze, Command più virgola, in System, in Control Panel e lì lo visualizzeremo. I contro. Meno versatile rispetto all'editor keyboard, ha meno tasti e funzioni dedicate, limitando alcune opzioni avanzate. Essendo più concentrata nello spazio, diversi tasti anziché essere unici, qui svolgono due funzioni. Per utilizzare il secondo bisogna premere in sequenza due volte il tasto, come abbiamo già visto. Limitato alla Cut Page. Le sue funzionalità sono principalmente progettate per questa sezione di DaVinci Resolve, rendendolo meno adatto a lavori complessi di post-produzione. Molti snobbano un po' la Cut Page perché magari più abituati a un edit tradizionale che ritroviamo nella Edit Page. Per chi viene da Final Cut, nella Cut Page ritroviamo qualcosa di familiare a mio avviso, per cui è meno ostico utilizzarla. Io spesso, a seconda del progetto ovviamente, parto dalla Cut Page e poi affino il tutto nella Edit Page. Vero è che per esempio nella Color Page i tassi che funzionano sono pochi e alcuni li ritroviamo già nella Micro Color Panel, ad esempio quello di Play, Stop, eccetera. I tassi numerici che sono assegnati alle funzioni multicam non vengono in molti casi utilizzati e sarebbe stato bello poterli riprogrammare per funzioni che servono maggiormente. La Speed Editor non sostituisce una tastiera tradizionale come lo fa la Editor Keyboard, per cui dobbiamo sempre avere un'ulteriore tastiera sulla nostra scrivania, che se da un lato può aiutarci perché magari ha le accentate come sulla tastiera italiana ed evita contorsione alle dita, dall'altro occupa più spazio sulla scrivania. Uno degli aspetti più controversi della Speed Editor è dove la posizioniamo. A destra della tastiera? A sinistra? Sopra? Non c'è un posto che vada bene per tutti. Ha senso la Jogwheel secondo me dovrebbe trovarsi a destra, com'è sulla Editor Keyboard, ma così facendo prende il posto del mouse, che non è eliminabile del tutto. Controllarla invece, mettendola a sinistra con la mano sinistra, è qualcosa che trovo innaturale, quindi ognuno la metterà dove si trova meglio. Un contro comune a entrambe è l'impossibilità, almeno per ora, di poter riassegnare delle funzioni a tasti diversi e personalizzare così la tastiera. Si è costretti ad utilizzare i tasti di funzione così come sono stati pensati e progettati. Se per chi comincia non è certo un problema, per chi magari già lavora da tempo e ha sicuramente settato molti tasti, assegnandogli funzioni o scorciatoie sulla tastiera tradizionale, essere costretto a riprogrammare la propria mappa mentale dei tasti può essere un po' antipatico, nulla che non possa essere fatto con un po' di pazienza e di tempo. Una tastiera del genere non è stata inventata da Blackmagic. Se andiamo indietro nel tempo di diversi anni, troveremo modelli di casa Sony, ad esempio come le tastiere BVE 9100, BKE 9400, che nella forma ricalcano veramente molto quella di Blackmagic. Quelle di Avid, colori a parte, sono invece molto più simili a tastiere normali. Concludendo, Blackmagic Design Editor Keyboard è la scelta ideale per chi lavora con DaVinci Resolve a livello avanzato e necessita di un dispositivo solido, con tasti dedicati e una rotella di scorrimento precisa per ottimizzare il flusso di lavoro. È l'ideale per chi cerca affidabilità e funzioni avanzate, anche se comporta un costo maggiore e una minore portabilità. La Blackmagic Design Speed Editor è perfetto per editor che privilegiano la portabilità e il prezzo accessibile. Funziona molto bene con la cat page e la sua connessione wireless lo rende comodo per chi lavora su più postazioni. Tuttavia è meno indicato per editor professionali che richiedono una gamma completa di funzioni di editing. Questi due prodotti sono progettati per usi specifici e scegliendo quello più adatto si può migliorare sensibilmente, a mio avviso, la propria esperienza di editing con DaVinci Resolve. La Speed Editor è uscita successivamente la Editor Keyboard e l'implementazione di alcuni tasti funzione fanno capire che si tratta di una periferica più recente. Mi aspetto di vedere una nuova versione della Editor Keyboard, tra non molto. Il fatto stesso di non avere come opzione la connessione Bluetooth denota un po' di vecchiaia. La stessa cosa si è vista sulla Micro Panel, che non ha il Bluetooth, e la nuova Micro Color Panel, uscita da poco, che invece ne è dotata. Per padroneggiarle serve un po' di tempo, ovviamente, perché le funzioni a scoprire sono davvero tante, ma una volta fatte proprie le modalità di selezione e utilizzo, si risparmierà davvero molto tempo. Per chi monta in modo saltuario e non professionale potrebbe essere una spesa eccessiva, ma se avete intenzione di progredire nel montaggio ed essere sempre più efficienti, consiglio vivamente di utilizzarli, perché imparando a montare con questi dispositivi farete meno fatica che a rimappare le vostre conoscenze successivamente, quando per esempio avete personalizzato già la vostra tastiera. Ovviamente nulla vieta di utilizzarli contemporaneamente, se ne possono utilizzare diverse unità contemporaneamente, è mai capitato di utilizzare insieme la Editor Keyboard e la Speed Editor. Nelle altre page di DaVinci Resolve hanno una funzione limitata, essendo progettate specificatamente per la Cut e la Edit Page. In ambito color ad esempio non è fondamentale se abbiamo un mini o un micro color panel. Diversi colorist utilizzano una tavoletta grafica come quella della Wacom, che utilizzo di solito quando lavoro in Photoshop. È utile ma più per la color associata a un mini o un micro color panel, piuttosto che per l'editing puro. La licenza di DaVinci Resolve Studio costa da sola 335 euro, IVA inclusa. È palese che la Speed Editor, acquistata per avere la licenza alla fine, si paga davvero poco. Vi consiglio di verificare sempre che la licenza Studio sia inclusa quando acquistato questi dispositivi. Comprarla usata, se vi serve anche la licenza, potrebbe non valerne la pena, a meno che il prezzo non sia davvero interessante. Io utilizzo la Editor Keyboard e raramente la Speed Editor. Quando mi capita di dover montare, magari appoggiandomi a una postazione priva della Editor Keyboard, ne sento proprio la mancanza e non lavoro bene. Mi piacerebbe avere una tastiera più aggiornata e con le connessioni Bluetooth, anche se dato il costo non certo esiguo, per poche ma valide funzioni in più sarebbe da pensarci bene. Dato che hanno rilasciato l'ultima versione di DaVinci Resolve anche in italiano, io però continuo ad utilizzare la versione in inglese per comodità e abitudine, non scludo che prima o poi possano proporre una Editor Keyboard con tastiera italiana e magari qualche tasto programmabile. Allora sì che l'upgrade sarebbe giustificato. Mi auguro di avervi offerto una panoramica esaustiva sui due prodotti e aver dissolto qualche dubbio e magari convinto dell'utilità o meno per il proprio lavoro di queste due periferiche. Se il video vi è piaciuto lasciate un like e iscrivetevi al canale. E voi, quale preferite fra le due? Scrivetemelo nei commenti qui sotto. Ci vediamo alla prossima. Ciao! Ciao!